Amici, anche oggi realizziamo questo video per far vedere il prodotto a 360 gradi. Stiamo parlando di questa tenda a tre posti, che c'è anche quattro posti e sei posti, automatica. Si apre con le sue capacità. Allora, si apre. Per evitare così il discorso del montaggio. Vedete? È così composta. Allora, possiamo vedere anche l'interno. L'interno. Questi sono i tre posti, quattro posti e sei posti anche i più grandi. C'è la zanzariera. Abbiamo la zanzariera per poterla all'interno. Vedete? Ci sono le cerniere all'interno anche per chiudere. Eccola qua. E' dotata di tutta, anche di dischetti. migliorazione che si mettono appunto per fissarla. E abbiamo anche la zanzariera da questa lato, la finestrella. e anche con il tanzariera da questo lato. Per chiuderla, sempre, non essendo facilità, si ripiega. collaborativi dovreste riceverla. Niente, poi questo è tutto. Un saluto da Giuseppe, alla prossima.